La danza per promuovere l'Abruzzo dal punto di vista turistico e il cuore del progetto Storie e danze dell'Abruzzo dei Castelli, promosso dal Centro Studi di Danza Aquilano l'Arabesca e presentato a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Per l'occasione sono stati selezionati dieci castelli, il Forte Spagnolo dell'Aquila, i castelli di Balsorano, Roccascalegna, Ortona, Popoli Capestrano, Castelmanfrino di Valle Castellana e i castelli di Crecchio, Roccascalascio e Celano. L'evento mira a valorizzare il patrimonio storico artistico e paesaggistico attraverso appunto l'arte della danza, come spiega la direttrice del Centro Studi d'Arabesca Maria Cristina Adriatico. Io penso che chiunque abbia l'opportunità di educare come capita a me attraverso la danza che effettivamente uso come forma di didattica. Penso appunto che chiunque abbia questa opportunità deve anche trasmettere dei valori e uno dei valori più grandi è quello dell'amore per la propria terra, la capacità di sentire propria la terra in cui vive e fare sue le tradizioni popolari perché in questo modo si riesce a creare una connessione che per me è importantissima. La bellezza del territorio influenza sicuramente anche il carattere delle persone, secondo me l'architettura, l'architettura del paesaggio è qualcosa che va sempre sottolineata proprio perché riesce a creare delle relazioni con il sociale. Io lo faccio attraverso la danza perché è la materia che comunque ho sempre studiato, è la mia ricerca, la mia passione. L'evento è patrocinato dal Consiglio regionale e dal Comune dell'Aquila. Il vicepresidente della Sise Civica regionale Roberto Sant'Angelo. Noi crediamo che il nostro Abruzzo vada raccontato nelle mille sfaccettature che tra altre cose lo compongono. Dieci castelli che sono un percorso all'interno dell'intera regione vogliono fare oltre che arte e cultura anche una premozione del territorio e del turismo. Noi crediamo che questa sia la direzione giusta per far scoprire in primis agli abruzzesi ma poi a tutta la cittadinanza italiana, quelle che sono le meraviglie e le bellezze di questo territorio e quello che può offrire. Quindi un percorso immaginario tra alte, cultura e spettacolo per vedere in modo diverso quelle che sono le bellezze del nostro territorio. Per l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo, avendo l'Abruzzo dei bellissimi castelli, alcuni poco conosciuti e altri da tempo utilizzati come set cinematografici, l'iniziativa ha la finalità ben precisa di far rientrare tutto in questo percorso, di portare l'Abruzzo fuori dalle mura della stessa regione. Saranno appuntamenti davvero suggestivi in quanto a ogni castello verranno abbinate tematiche legate al territorio e sviluppate attraverso il linguaggio della danza. I costumi sono curati dalla Compagnia Rosso d'Aquila. Il primo spettacolo è in programma domenica prossima, 23 giugno alle 20 e 30, al ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila. E poi cercheremo di fare dei laboratori, ci stiamo appunto mettendo d'accordo con le varie sedi e gli enti preposti per poter sviluppare e creare anche dei laboratori che coinvolgano le genti del territorio, perché mi piacerebbe proprio creare questa connessione tra la danza e la gente proprio del territorio, nei castelli che comunque abbiamo preso in considerazione. E poi vorremmo anche produrre un ulteriore video dove raccontiamo diciamo tutto il nostro percorso. Speriamo che questa cosa possa essere ben gradita. Grazie. Grazie a tutti.